Sin da giovanissimo recita in spot pubblicitari e interpreta piccole parti televisive. Appena adolescente è in grado di suonare diversi strumenti. Passione che gli permette di entrare a far parte del circuito musicale underground degli anni. Ottanta, diplomato al liceo artistico e affascinato dal teatro. Si fa notare dal regista Mauro Bolognini. Che lo vuole per sogno di una notte di mezza estate. In seguito il regista Guse Van Sant lo porta sul set di Belli e Dannati. Viene anche scelto tra i protagonisti del film Sabato Italiano.